Ciao ragazzi, sono Sorvisi, oggi siamo qui con Minecraft Minigames, un altro episodio che è stato cortissimo. Abbiamo fatto Milk the Cow e poi anche vi ho accennato un gioco che io non farò perché alla fine ho cambiato idea, non lo farò. Non vi dico che gioco è perché tanto non lo conosce di sicuro, non esiste. Quindi facendo perdere quello cerchiamo... che cos'è che mi serve adesso? Bacon Brown! Adesso si mette solo a ricercarlo. Allora ragazzi, praticamente noi siamo dei maiali, anzi siamo il mucciaccio pigro e dobbiamo sconfiggere i nemici. Bebe Piggy, guardami, Bebe Piggy. No, io posso essere sopposto qui però... Ora metto un orologio qui e crafto il niente. Ok, noi siamo in questa mappa qui, dobbiamo sconfiggere gli altri. E' molto difficile. Ah, maiali all'attacco, maiali all'attacco, maiali all'attacco. Esplosione qui, salto rapido, cos'era? Salto ampliato. Ah, salto tipo due blocchi? No. Oh, maialini, maialini all'attacco. Boom! Uddio, che pelo. Sono morti già in 14? Mischio lilla! Mischio lilla tanto anche, va. Maiali all'attacco! Maiali all'attacco! Ok, questo potevo evitare. Maiali! Maiali casinisti! Maiali casinisti! Tutti pronti a mangiucchiare le vostre carotine. E basta? Basta, smettete. Quello lì che vola fatto, ho fatto tipo... Un tizio è bruciato. Siamo in 9! Siamo in 9! Brutto cattivone! Vai! Ok. Me lo dobbiamo tenere per dopo, semmai che cosa lì. Maiali cattivo! Maiali cattivo! Siamo tutti maiali cattivi qui. Ok, siamo rimasti in 6! Siamo rimasti in 6! Non ci posso credere! Sto vincendo! Beh, non è che sto proprio vincendo. Ma sono ancora vivo, lo vediamo bene. Aia! E vieni qui! In 4! Siamo 4? Noi 4? E ci sono anch'io! Forte! Mori! Non è poi così bello. Beh sì, siamo dei maiali che si ammazzano fra di noi. Ci sono dei maiali che si ammazzano fra loro. Non è una cosa fantastica, però è epico. Oh Dio! Che colla... Che colla? Che cosa mi ha fatto fare? Un salto abnormico! Oddio! Aia! Uh, non ci posso credere! È il ritorno di cielo Fisis! Il maiale più maialoso del mondo! Quel tizio mi ha tirato una testata allucinogena! Oddio! Dai, terzo! Su, meglio che niente! Fa vedere che Vinicius ha visto lui! È un maiale! Questo lo sapevo! Dove sono? Finalmente ho trovato Bacon Bra! Dove sono spawnato? È il ritorno dei maiali! Il ritorno dei maiali! Il ritorno dei maiali! Wow! Raventamente! Il ritorno... Qualcuno ha sparato dei maiali? E c'è delle cose lì? Ah ragazzi! C'è il mini maiale! Avete visto? Ho visto... Eccolo lì! Mini maiale! Il mini maiale spara le cotolette di maiali! Che fa male! È fortissimo! E io sto venendo per fare una brutta fine! Sono già morti in nove? Ovviamente sì! E smettila tu mini maiale! Oddio! Come crasha sto server! Come lagge! Non si fa! Non si fa! Attacco veloce! Non ci capisco nulla! Sto colpendo il niente! Sì! E vai! Mini maiale di cacca! Aiuto! Aiuto! Uh! Non ci credo! Sono sopravvissuta! Quante che non... Sì mi fanno un po' male! Però poi il d'oro le sparisce subito! Guardate! Mi sa che siamo tipo in modalità pacifica! Vai! Nella! Lava! Ok no! Gnac! Ho visto un piccolo maiale schizzare a 300 km all'ora in aria! Oltre che siamo di maiali banchati in maniera assurda stiamo entrando continuamente nel terreno! E stiamo morendo tutti! Sì! Tanno e me! Eh io non posso morire così no! Quello è lava! Un bucho di lava! Ce ne sono buttati due maiali dentro lì adesso! Sennò sono sopravvissuti in cinque! Siamo in cinque! Oddio! No! Non ti baggare! Sono baggato! Ok no! Gnac! Non potete fermare la forza! Neppure tu! Minimaia! Oddio! Un attimo eh! Mi gratta un naso! Ok! Adesso vi guardo a mattarsi fra dei loro! Che stupidi! Stupidini! Gnac! Ok! Siamo in tre! Due! No! Siamo in due! Ho vinto? Io? Non è possibile! Sì invece ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ragazzi ho vinto Beacon Brawl! Quindi ciao ragazzi! Per questo episodio!